È aperto, è davanti, così. Aspettate. Con lo spacchettino così, vedete? Spacchetto così. 39, due possibilità. Devono correre, correte! Bellissimi. Eh, l'ho fatta vedere anche prima la nera, glielo chiesto se me la portavano, ma non me l'hanno portata. E questa, ad esempio, allora, aspettate, poi vi faccio vedere la cuore. Allora, guardate che bello. Allora, fate così. E poi, che già conoscete, l'ho già indossato diverse volte ed è comodissimo, vi garantisco, si vedono bene i collier, è comodo. È molto carino, molto femminile. Vedete anche la manica che lateralmente è così, quando sono messa così non la vedete, è molto bella. E oggi ho messo lo stivaletto. Lo stiletto, tacco, 12. È qualcosa, amiche, di elegantissimo. Qui, amiche, non si sbaglia, bisogna essere velocissimi a confermare. Bellissima, in gold, in oro. Qui, amiche, assolutamente non si sbaglia, si porta a casa veramente una borsa di grande qualità. Allora, amiche, abbiamo il cuore, che comunque noi vendiamo a parte. Il cuore costa 145 euro e lo offriamo insieme a... Ciao, Roby! Come stai, Roby? Alla grandissima? Allora... Ma no, no, devo dire la verità, no. Diciamo che era tanto tempo, amiche, che non stavo... Io sono molto abituata con i tacchi, devo dire la verità. Ho sempre utilizzato tacchi giorno e sera, ma non perché, un po' perché avevo o avevo, perché ora non ce l'ho più tanto, il complesso dell'altezza. Ve l'ho detto, non sono altissima, sono una persona normale. Sono alto 1,61 m, niente di speciale. Quindi ho sempre avuto questo complesso dell'altezza e quindi ho sempre portato i tacchi molto alti. Allora, aspetta. A voi. Federico, benvenuto. Allora, andiamo avanti con le borsette. Allora, le borsette, andiamo a vedere le B. Le B62, giusto, sono quelle da 89 come sacche, ragazzi. Confermate? Quelle in pelle dollaro, con la gonellina. Media nera, parliamo di Capretto, parliamo di Marte Lasset, parliamo di 99 euro. Tra coso ganata da Chanel, eccezionale. Bellissima. 99 euro, amiche veramente di alta, alta classe. Bellissima, amiche, dedicata a voi una borsa, amiche, che ha fatto la... La M appunto... L non ce l'ho, devo fargliela fare. Sono quelli a ondina? Sì. Sì, allora adesso sono finiti quelli normali. Avevamo uno rosa che è andato. Allora, noi rivediamo il 61-30. Andiamo in passerella, Roby, dai. Guardate che amore. Bellissima, amiche. Guardate che borsa. Guardate che stile. Bello manico da portare a spalla. Bella portata a tracol. Una borsa eccezionale. Molto più stanca, senza stare in piedi così tanto. Poi, allora... Partirei con questo... Che l'ho già perso. Allora, aspetta Roby, allora facciamo vedere intanto. Io lo cerco, eh. La mia, ma non è finita lo stesso. Guardate. Cinturone... Chi ha che orla? elasticizzato con la stampa in cocco laterale e una bellissima fibia. Guardate, ora non lo so se l'ho messa... Ecco qua. Guardate che meraviglia, amiche. È una cosa pazzesca. Ha tutto l'elastico, quindi lo regolate quanto volete. E ha tutta la stampa in cocco. Fibio è molto grande. Costava 79. Ciao, amore. 39 euro, amiche. Ce l'ho in cuoio e ce l'ho in nero. Bellissimo, amiche. Tutto elasticizzato su tutto retro. Ora io ho il microfono, ma è bello grande, eh. Ora lo vediamo qui.